un bel ritrovato tutti voi amici di tv2 e lirica che ci seguite dall'italia e dall'estero una nuova trasmissione spazio arte è una trasmissione dove si parla di arte ma dove c'è comunque anche sempre un po collegata la musica io do subito il benvenuto all'ospite speciale di questa puntata che giusi mi intendi ciao giusi e benvenuta ciao grazie è sempre un piacere essere qui nei tuoi programmi ospite e quindi ti ringrazio di questo perché mi pensi sempre grazie certo che ti penso sempre assolutamente sì e poi do il benvenuto a eliana cardellini che sarà con me per tutte le trasmissioni perché lei è l'opinionista della puntata della trasmissione benvenuta eliana grazie buona serata a tutti è un piacere grazie per questa opportunità grazie grazie a te ma allora io vi presento giusi mi intendi anche se in realtà non necessita neanche di essere presentata e lei è una grandissima artista inventrice della pittoscultura in trasmissione ne parleremo lei ovviamente ha un grandissimo talento ama la sua terra e della sua terra ne fa ne usa la usa proprio anche per per esprimersi attraverso i suoi i suoi dipinti le sue pittosculture meglio appunto definirle è un amante anche dell'opera lirica incontrato luciano pavarotti ma di tutto questo ne parleremo in trasmissione ora incominciamo con una un suo oggi vedremo questa sera due suoi dipinti il primo è carillon dalla collezione fondale marini ed è proprio quello che tu giusi hai alle tue spalle tra l'altro giuse nel suo atelier che vi posso assicurare è meraviglioso anche in una posizione meravigliosa perché sei in una bellissima posizione vicino a catania in sicilia e quindi da lì che sei in collegamento raccontaci di questo bellissimo dipinto e allora alessandra tu sai quando io sono felice di essere qui con te innanzitutto perché c'è una stima reciproca che mi trovo bene praticamente a raccontarti le mie opere che fondamentalmente io dico una cosa le è quello che io non riesco a realizzare con la materia prima che è la cenere del dell'etna la sabbia lavica e i lapilli mi fa sì appunto che ci sia una connessione diretta con il vulcano tu un po mi conosci questi anni sai che sono vulcanica quasi figlia un appendice del vulcano etna che è molto attivo certo assolutamente confermo per cui questa mia indole e fa sì che poi deve essere espressa nelle mie opere e io oggi mi vedete un po così spagnoleggiante no perché purtroppo un carattere che mi fa in qualche modo facilmente si contamina con tutto quello che mi circonda ieri ho avuto l'opportunità di vivere l'esperienza della sagra del mandorle in fiore che c'erano tutti i paesi del mondo che rappresentavano la danza e comunque inneggiavano alla pace e mi sono fatta travolgere da questa atmosfera e oggi sono un po messa e oggi è spagnoleggiante perfetto ora perché perché dico questo perché io c'è stato un momento della mia vita che facevo immersioni per cui entravo nel mondo sottomarino e oggi ho piacere di parlare di carillon di pesci che appartiene alla collezione fondali marini ho fatto una serie di quadri che sono di grandi dimensioni e ho adoperato non solo la cenere vulcanica anche dei lapilli ma anche dei cristalli per esaltare le forme di questi quadri ognuno ho dato una particolarità questo che vediamo è un insieme di pesci che vivono in equilibrio nel nel fondo del mare ma nello stesso tempo diciamo che hanno una sorta di come dire di pace tra di loro di di senso di appunto di equilibrio tra di loro che fa sì che immergendoci in questo ampiegno sottomarino ci si rilassa si entra in in meditazione in un mondo silenzioso ma nello stesso tempo connesso con l'universo no perfetto ti blocco un attimo giusi ti blocco un attimo giusi perché vorrei che il diana cominciasse a fare proprio a porre la prima domanda su quanto prego ok allora io sono stata rapita da da questo quadro mi piace molto e quello che mi ha trasmesso è secondo me l'artista quindi giusi guardando questo quadro questa armonia mi dà la sensazione di vedere il carattere di giusi le varie sfaccettature della sua nel suo essere quindi giusi in abito da sera lì dove c'è il la piovra tant'è vero che è nera con questi tentacoli quasi iridescenti giusi in versione materna io non so se giusi abbia dei figli ma due figli e giusi un po combattente come il pesce che troviamo il pesce combattente che troviamo sulla sinistra giusi ti ritrovi in questo sono sono commossa emozionata da questa descrizione perché in effetti è così hai azzeccato tra le altre cose c'è un mondo guarda io quando faccio immersioni che ho la fortuna e anche di vivere in un posto dove c'è il mare tu ti rendi conto che rispettosamente entri in un altro mondo ma io lo sento mio perché comunque anch'io sono un essere umano cioè quindi che faccio parte del dell'universo e quindi si ha un dialogo silenzioso quando si entra in acqua facendo snorkeling facendo immersioni in questo a me diciamo la cosa che in questo quadro posso dire che ho lavorato come se fosse un foglio di carta ma in realtà carta non è perché gettando la cenere vulcanica si sono create diverse diciamo anche dimensioni perché una pittura 3d ed è stato il la tela stessa a suggerirmi i pesci che dovevo dipingere questa è stata la cosa bellissima di questo quadro perché ad esempio la piovra che tu dicevi già un basso rilievo ma mi ha suggerito la stessa cenere quello che dovevo fare infatti non l'ho dipinta cioè ho lasciato i tentacoli sì ma ho lasciato un grezzo diciamo la parte superiore proprio per far capire che la terra in qualche modo a parte che è molto energetico questo quadro perché è fatto e costituito da una terra che proviene dalle viscere del vulcano per cui è assicurata l'energia e e poi nello stesso tempo però ti dà pace e tranquillità perché c'è questa convivialità di questi pesci che tra di loro vivono sereni come in un acquario no quando tu guardi qui come da bambini si guardava l'acquario e ti lasciavi trasportare da questo senso di pace giusy ma come nasce come nasce per esempio l'idea di creare questo quadro come nata questa è nata proprio nel periodo che io facevo immersioni e quindi sono andata anche fuori all'estero a fare immersioni e praticamente ho visto questi pesci cioè non me li sono invendati io ne sono rimasta contaminata a charme praticamente quando facevo sono rimasta contaminata da questa bellezza perché inizialmente tu sai benissimo io ho sempre omaggiato praticamente il il vulcano perché mi offre la possibilità di quindi tantissimo insomma anche con l'esperienza che abbiamo avuto noi e il vulcano e c'è da un certo punto invece è arrivato il momento dei del mondo marino del sotto del mondo che c'è sotto quindi l'acqua e quando mi sono fatto immersioni qui da noi il mondo sottomarino è diverso perché qui praticamente ci sono i crateri spenti a citrezza capomolini sono tutti anche riposto sono tutti dei crateri spendi primi crateri per cui la terra lavica che io ad opero anche in altre quadri che in altre opere che ho fatto della collezione i fondali proprio si vede anche la territorialità perché io comunque ho mai fatto anche i coralli che c'erano tantissimo ora si stanno riformando piano piano perché purtroppo poi nel tempo sono andati grazie all'opera dell'uomo sono andati persi i coralli che c'erano ad acitrezza i coralli siciliani molto belli molto apprezzati per cui anche anche diciamo il messaggio che vuole mandare l'arte perché secondo me l'artista non può lavorare per se stesso deve dare un messaggio al mondo a chi guarda e interagire quindi creare bellezza per diffonderla anche agli altri e per far venire voglia di anche capire un altro mondo ecco questo è rispettarlo soprattutto rispettato condivido condivido pienamente ora è arrivato il momento della pubblicità però seguiteci rimanete collegati con noi perché quando ritorniamo dopo la pubblicità ci sarà un nuovo dipinto di giuse mi intendi e adesso vi lascio a un molto molto bello di irka boschenko ex tom model cantante autrice delle sue canzoni nonché ex woman di james bond e quindi pronti e vi aspetto mi raccomando baby i'm dancing in the dark with you between my arms bad food on the grass i wanna be a light the tender words you read i swear it cross my heart baby you're all i need come on e mi sentire me prende in his arms e mi parla tutto bas io vedo la vita in rosa e mi dice di amare ma rendu si belle l'instant di qualche giorno le lancen suel sono devenu amore i won't cry i won't cry i won't cry i won't cry i won't shed a tear i won't cry i won't cry i won't cry i won't cry eccoci nuovamente insieme ora abbiamo un nuovo dipinto della bravissima giusy mintendi artista di caratura non solo nazionale ma anche internazionale e il pittostruttura suo lavoro d'arte che prendiamo in esame adesso al titolo di energia magmatica e fa parte della collezione dei preziosi e darei subito la parola all'opinionista iliana nel vedere c'è lì giusy bella come il sole e questo bel dipinto che cosa quale domanda ti sorge spontanea mi sorge spontanea chiedere a giusy oltre alla cenere lavica che penso sia un modo per trasmettere al mondo l'amore che ha per la sua terra perché portiamo un pezzettino di sicilia ovunque e questa cosa è bella anche per noi italiani se utilizza altro materiale oltre alla cenere lavica per realizzare le sue opere sì assolutamente io in questo momento sto concludendo alcune opere fatte di cenere lavica lapilli che vado a raccogliere io stessa a 2800 metri di altezza contenitori si sono i lapilli che il vulcano nel momento dell'eruzione butta su e arrivano sulle ginestre rimangono attaccate alle piante quindi assumono una colorazione metallica e sono molto porosi e molto leggeri e poi io posso adoperarle per le mie tele ma oltre questo o sto adoperando anche dei materiali delle pietre naturali semipreziose quali il lapislazzolo l'amitista il la crisocolla l'agata grezza naturale anche dipinta e in questo momento appunto avendo a che fare con queste gemme che ho scoperto siano anche diciamo curative hanno delle proprietà hanno dei colori bellissimi quindi mi aiutano ad amalgamare sia esteticamente una la cenere che è opaca in nera e quindi questi cristalli semipreziosi il lapislazzolo è meraviglioso per esempio c'ha un blu stupendo con dei bordi in oro dei delle delle piccole chiazze quindi tutto questo rende l'opera ancora più preziosa ma non proprio materialmente ma per l'energia che sprigionano le pietre per l'energia che si vede oltre che naturalmente come in questo quadro io ho basato tutto su un fondo oro un fondo oro e siccome appartiene alla collezione i preziosi che mi sono diciamo in qualche modo ispirata ai colori delle gemme verde smeraldo e che andava praticamente a una a un gioielliere che l'aveva richiesto per farne un uso eh di un galà privato prepara eh come come scenografia ma questi questi quadri sono fortunati doppiamente questi quadri di questa collezione perché ho realizzato in collaborazione con altri artisti dei progetti e tu pensa che proprio su energia magmatica che è l'energia che fuoriesci dal vulcano però reinterpretate in chiave diciamo molto artistica hanno ballato due ballerini di tango argentino proprio qui in questo studio hanno interpretato una loro performance eh diciamo danzante e guardando quest'opera e poi altri altre opere sempre della collezione sono diventati altri progetti tipo arte in copertina dipindi sonori che si trovano sul canale di youtube questi quadri in realtà giusi ti fermo un attimo al canale youtube ecco pubblicizziamo bene il canale youtube e eh giusi mi intendi eh art gallery com'è è solo giusi mi intendi giusi mi intendi e si apre un mondo e si apre un mondo perché io ci vado normalmente ma c'è già direttamente il collegamento giusi mi intendi ci sono delle collezioni eh cioè ci sono dei video che sono in collaborazione con altri artisti musicisti poeti ballerini perché io penso che l'arte non debba essere chiusa per addetti ai lavori assolutamente l'arte a 360 gradi giusi velocissimamente ci raccorti il tuo incontro con luciano pavarotti luciano pavarotti anche lui era un pittore la nostra chiacchierata è stata semplicemente come dovevamo fare certe sfumature perché lui dipingeva pure e allora quando ha saputo questa cosa mi ha chiesto un po di domande tecniche mi ha fatto e lui una persona guarda mi ha spiazzata perché io sapevo quando fosse così grande nella sua arte eh io sono sempre stata appassionata di di musica classica e quindi mi mi mancava anche la parola però lui è una persona semplicissima cioè nella sua grandezza di una semplicità incredibile quindi abbiamo parlato abbiamo scambiato un po così due chiacchiere sul discorso pittura poi quando è andato via praticamente ha voluto regalarmi senza che io glielo chiedessi perché ero emozionatissima quindi figurati se gli chiedevo l'autografo la cosa già che mi aveva parlato ero veramente il collega che tremavano esatto quindi a quel punto lui mi firmò e mi dedicò una sua foto che io caramente custodisco ce l'ho proprio qua sulla mia scrivania e che dal 2001 quando io appunto lo conobbi e la la tengo sempre con me perché secondo me lui è la persona è l'emblema della persona grande umile tra virgolette nella sua grandezza è semplice è curioso una sana curiosità lui era sempre in diciamo in crescendo non è non si fermava mai generoso molto generoso è una bellissima foto quella che hai guardato l'onore di essere proprio nell'atelier di giusy mintendi e vedere oltre a tutte le sue opere dal vivo che sono strepitose anche questa bellissima foto di dell'oceano guarda messo lì sul quadro guarda questo studio io passo tantissime ore perché giustamente sai bisogna anche voglio dire trovare il momento giusto per lavorare e tutto e lui mi fa sempre compagnia cioè perché tante volte mi diciamo pensando a lui che è veramente l'emblema della grandezza anche di un popolo perché comunque l'italia tu lo sai che ha a che fare con tutto il mondo e l'italia porta sempre un messaggio di di bellezza di anche di armonia non lo so di assolutamente sì e il diana come un giudizio su questi due dipinti che abbiamo visto in trasmissione e di giusy allora io i dipinti sono spettacolari lo ripeto cioè proprio mi hanno rapito energia magmatica è elegante è un quadro veramente dove spigiona l'energia ma anche di giusy e adesso che ho conosciuto giusy e devo dire che tra c'è la rappresentano molto bene sì sì giusy è una persona stupenda spero di entrarti presto quelle parole veramente grazie mi fai veramente molto contenta perché in realtà io voglio essere vera cioè questa sono e quando rappresento le mie cose le sento non copio nulla cioè voglio dire magari guardo tutto perché sono molto curiosa però interpretro cioè non ho mai la voglia di scopiazzare gli altri questo non mi piace l'originalità e l'idea nelle cose secondo me ripagano ripagano perché creare e dare agli altri e tutto quello che io voglio fare cioè non non ho nessuna pretesa di di qualsiasi genere non so magari si lavora per uno scopo finale per avere fama successo no io lavoro per me stessa principalmente e poi quello che il mondo mi ritorna e sempre guarda inaspettato come per esempio la vostra presenza qui oggi nel mio studio veramente sono strafelice e questo già mi appaga mi sento felice tranquilla e sono nel mio mondo questo io conosco giuse ormai da un po di anni vi posso assicurare che oltre a essere una grande artista ma questo non ho bisogno di dirlo io basta vedere i suoi dipinti e anche una grandissima donna una veramente delle poche veramente persone sincere e leali che al giorno dopo al giorno d'oggi purtroppo sono sempre in minoranza e su questo giuse io non te lo dico per parti una sviolinata rimanendo in tema musicale ma perché lo sai quanto ti apprezzo insomma ci conosciamo bene quindi sai esattamente quello che penso di te la stima è reciproca noi ci vogliamo bene quindi assolutamente sì è vero anche tu sei così ci siamo sempre trovate benissimo ora abbiamo anche un'amica in più Eliana ora abbiamo anche Eliana che Eliana è come noi assolutamente quindi io mi auguro incontrarci di presenza anche perché le mie opere sono più belle viste di presenza e Alessandra può dirlo perché si vede la tridimensionalità delle opere immagino 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 e non vedo l'ora e quindi sono sì sono tante le opere sono delle collegate nonostante diciamo abbiano temi diversi crateri le fusione e poi ci sono anche diciamo che il filo conduttore sono io cioè in tutte mi rivedo però come dicevi prima anche nel commentare carillon di pesci e ci sono diverse sfaccettature che fanno parte diciamo del della persona dell'arte e quindi quelle vengono in qualche modo contaminate da dalla mia personalità però è bello è bello che gli altri così come voi state in qualche mondo eh ammirando e insomma mi fa solo piacere questo passa proprio il calore cioè è una cosa stranissima sì sì assolutamente il calore del come se fossero firmati anche se non vengono firmati sono già sono sono già firmati così sono veri sono veri sono veri come vera lei effettivamente come vera giusi ma io la la cosa che mi piace assolutamente portare un messaggio positivo ottimista anche nel momento in cui come oggi viviamo delle cose veramente spiacevoli e in queste già è passata la la commemorazione delle donne e mi sono veramente divisa in tanti eventi proprio per parlare anche attraverso le mie opere di di portare cioè di migliorare quello che abbiamo sia intorno sia fuori perché ognuno di noi con un anche con un piccolissimo gesto può creare un mondo diverso assolutamente condivido condivido pienamente siamo giunti al termine di questa puntata di spazio arte io ringrazio Iana per essere è stata al mio fianco e ringrazio l'ospite speciale giusi mi intendi che senz'altro sarà presente anche in altre puntate perché giusi mi intendi è un mondo c'è ci sono veramente tantissime cose da scoprire di lei e non possiamo in e luciano e avremo sempre luciano insieme a noi io saluto tutti voi che ci avete seguito grazie grazie a tutti e poi alla prossima settimana ciao a tutti grazie